Viene da un'esperienza in G League dopo 5 anni di college alla Richmond University Grand Golden, il lungo Vanoli da 208 cm che ha scelto l'Italia per iniziare il suo percorso europeo. Mi hanno offerto un paio di opportunità, ma quando è arrivata la proposta Vanoli e mi hanno descritto il loro sistema, quello che stavano cercando di costruire e come inserirmi in quel sistema di gioco, l'idea mi è piaciuta molto e sull'Italia posso dire che non ho sentito altro che grandi cose a riguardo, quindi ero davvero entusiasta dell'opportunità e super felice di essere qui. Andrea Conti in fase di presentazione ne ha sottolineato l'intelligenza cestistica e la propensione al gioco di squadra. Penso che l'unica cosa che mi distingue dalle altre persone nella mia posizione è la mia capacità di passare e coinvolgere i miei compagni di squadra. E un'altra cosa che mi caratterizza è che sono forte nel gioco di squadra. Come ho detto, sono orgoglioso delle mie qualità nel passaggio, eppure essendo qui solo da una settimana, posso dire che è così anche per i miei compagni di squadra. E parlando del suo inserimento nella realtà bianco-blu non ha nascosto l'entusiasmo e la voglia di dare il suo contributo alla causa Vanoli. A Cremona sono tutti davvero fantastici, super disponibili. Ci sono molti ragazzi dell'anno scorso che sono stati super utili nell'aiutare ad inserirmi. Il coach è stato fantastico. Tutto lo staff si è preso cura di noi e ha fatto tutto il possibile, specialmente con il caldo di questi giorni. Il nostro obiettivo è quello di restare lontani dalla zona retrocessione e fare del nostro meglio. Ci saranno alti e bassi, vittorie e sconfitte, ma penso che la cosa più importante per noi, soprattutto per me stesso, essendo la prima volta qui in Europa, sia concentrarmi su ciò che posso migliorare ogni giorno.